Perché la vita non si compra. Un cane o un gatto non sono né un televisore né una scarpa. Gli animali sono esseri pensanti, senzienti, soffrono e gioiscono proprio come noi e devono essere i nostri compagni di vita e non oggetti da collezione. La felicità non ha prezzo. La felicità non ha prezzo.